Regine indiscusse della Serie B Girone F, Bernalda Fuzzal e New Taranto, appaiate a pari punti in testa alla classifica, si affronteranno sabato prossimo al Palacampagna di Bernalda in un match che potrà rivelarsi importante per la leadership del campionato. Il presidente della New Taranto, Salvatore Britannico, presenta la sfida di sabato prossimo così. Sarà una gara quasi decisiva perché il campionato è fatto da poche compagini, sarà molto combattuta e nessuno vorrà lasciare punti all'avversario. L'avversario è di massimo rispetto perché come noi è reduce da 11 vittorie in questo torneo su 12 partite disputate. Speriamo che il risultato venga dalla nostra parte, però sempre massimo rispetto all'avversario.